Allora Marizio e Daniela Polelli sono impegnati da oltre 45 anni nella loro personale ricerca genealogica e per conto anche di altre persone. Daniela è stata per più di dieci anni direttore presso la sede di Modena del centro di storia di famiglia di FamilySearch. Maurizio è stato per lo stesso periodo esperto in informatica applicata alla genealogia dello stesso centro. Sono genealogisti diplomati presso la scuola di genealogia, araldica e scienze documentali di Bologna. Sono soci ordinari dell'istituto araldico genealogico italiano e membri associati della Accademia Internazionale de Genealogie. Maurizio è membro dell'istituto internazionale di genealogia e araldica. Da oltre 20 anni, per cui tanto tempo, tengono corsi di genealogia presso una biblioteca di Modena e presso l'archivio di Stato di Modena. Essendo l'unico corso completo articolato in 12 lezioni teoriche e pratiche in Italia, le iscrizioni per partecipare provengono da tutte le regioni del centro nord, con l'attestato finale rilasciato ai partecipanti dall'archivio di Stato di Modena. Collaborano con l'archivio di Stato di Modena realizzando percorsi didattici genealogici e di storia familiari per le scuole inferiori e le scuole superiori. Attualmente collaborano con Family Search e con la federazione delle associazioni italiane di genealogia, storia di famiglia, araldica e scienze documentali. Sono sicura che anche per voi come per tutti gli altri, ognuno di noi sarà ben felice con le orecchie e la mente e il cuore ben aperto per ricevere tutte le istruzioni e tutta la vostra esperienza maturata in tutti questi anni. Vi ringrazio e vi lascio la parola. Grazie. Sì, speriamo di interessarvi. Potete di ingrandire di più? No, per adesso va bene, vediamo dopo. Allora, da tanto tempo, da sempre, le persone costruiscono o cercano di costruire il loro albero familiare. Abbiamo diversi esempi, anche se gli alberi familiari di solito, o gli alberi genealogici, venivano costruiti per uno scopo, cioè per poter dimostrare qualcosa a qualcuno. Normalmente era la linea di discendenza per poter dimostrare i titoli che avevano i loro antenati e poterli avere a loro volta. è successo qualcosa? Sì, è cliccato il bottone sbagliato. No, non ho toccato niente. È partita la... Sì. Ecco. Ok, devi cliccare. Sì. E così volevo farvi vedere alcuni alberi genealogici. Volevo dirvi che tutti i documenti che oggi mostriamo li abbiamo presi dall'archivio di stato di Modena. Allora, il primo albero genealogico che volevo farvi vedere appena arriva, ecco, è un albero genealogico scritto, costruito da Pellegrino Prisciani, che è vissuto tra il 1400 e il 1500 a Ferrara. Quindi è l'albero genealogico della famiglia d'este di quel periodo. Come vedete, adesso speriamo che vada fuoco, ecco. È un albero dove non ci sono molte informazioni, ci sono molti disegni. Guardate che bello, che bei colori. E volevo farvi vedere un particolare di questo albero. Guardate. Questi sono i medaglioni con le persone e i nomi. Questo è inizio del 1500, ma non è molto diverso dagli alberi genealogici che facciamo adesso. Noi quando andiamo nelle scuole a parlare di genealogia, di storia di famiglia, parliamo degli antenati dei ragazzi e parliamo degli usi e costumi che avevano i loro antenati, nonni e bisnonni, alla fine loro costruiscono il loro albero genealogico con le informazioni che hanno raccolto prima. E questo è un albero genealogico che noi diamo alle insegnanti. Come vedete, loro disegnano l'albero genealogico. Questi sono loro, poi ci sono i loro genitori e i nonni. Questo è il risultato. Guardate. Dopo 500 anni non è diverso da quello che ha fatto il Prisciani nel 1400 fino al 1500. Guardate ancora. Questi sono tutti gli alberi di una classe che abbiamo messo insieme per fare la fotografia. E devo dire che questi ragazzi si impegnano a costruire il loro albero, si impegnano nel conoscere la tradizione. Quando chiediamo come giocavano i loro nonni, sono pronti a rispondere perché hanno fatto le stesse domande dei loro nonni e i loro genitori. Lo fa vedere un altro albero. Questo è un po' più complicato perché è un albero circa del 1500 anche questo, però l'ho fatto in tante parti. Perché? Perché è lungo oltre due metri. Questa è la parte più giovane. Questa è la dove arriva. Vediamo qui nell'angolo a sinistra che è Cesare d'Este, il primo duca di Modena che venne a Modena nel 1598. Quindi questo è il suo albero genealogico. Parte da molto prima naturalmente. Parte circa dall'800. Vedete che va indietro. Mi sembra che c'è ancora uno. Ecco. Parte dal 950-970. No, parte da prima. Comunque. Come voi sapete, gli alberi genealogici avevano uno scopo. Dimostrare che la famiglia era antica. Però quando si va molto indietro è molto portato alla fantasia. è molto fantasioso. Questo albero è stato fatto in questo periodo e ha una sua storia dietro. Così come tutti quanti i documenti che dopo vi faremo vedere e che voi troverete della vostra famiglia ha una storia. Non serve soltanto per avere lì dei nomi e delle date, ma serve proprio per avere una storia dietro, per riconoscere che siamo noi stessi. Questo albero quindi ha una sua storia. È successo durante il dominio del duca Ercole II d'Este nel 1534-59 e deriva da un fatto accaduto a Lucca nel 1541, quando si incontrarono proprio in questa città Ercole II d'Este, Cosimo dei Medici, l'imperatore Carlo V e il papa Paolo III. In quell'occasione Ercole II d'Este cavalcava di fianco all'imperatore, di fianco all'imperatore alla sua destra e Cosimo dei Medici alla sua sinistra. Cavalcare di fianco alla destra dell'imperatore era considerato un atto di prestigio proprio per la casata. Anche nel corso del banchetto che poi ha seguito, sempre Ercole II, aveva il privilegio di stare alla destra dell'imperatore e di porgergli la salvietta per potersi pulire le mani o il viso. Questo ha creato un certo attrito fra i medici e gli este perché ognuno dei due voleva avere questo privilegio che derivava dall'essere riconosciuti come una famiglia importante, più importante dell'altra. Il papa Paolo III decise che in favore della famiglia d'Este e ogni volta che li invitavano da qualche parte, gli dava sempre un posto di prestigio mentre questo non veniva dato ai medici. Così hanno cominciato ad avere delle discussioni fra di loro e l'albero genealogico è nato per questo motivo. Ognuno dei due ha chiesto ai propri storici di fare una ricerca sui propri antenati per vedere quale delle due famiglie era la più antica, più era antica e più era considerata nobile di prestigio. La questione poi si è risolta in seguito con Cesare che si è sposato con Virginia, la figlia naturale di Cosimo dei Medici e con questo matrimonio c'è stato anche il reciproco accordo di scambiarsi il titolo di Serenissimo e di Granduca. Così la cosa si è risolta alla pari. Quindi questo albero genealogico prima del 1300 era molto fantasioso e questo è stato dichiarato non dalle persone che attualmente lo guardano ma addirittura dal Tiraboschi. Lui stesso ha dichiarato che c'era molta fantasia in questo albero prima del 1300. Quindi gli alberi che venivano costruiti avevano solo lo scopo di dimostrare il prestigio. Addirittura abbiamo sentito in una delle tante conferenze che abbiamo assistito, organizzate da Perfilice degli Uverti, di qualcuno che faceva partire la loro casata da Giulio Cesare. Io non so come potessero trovare i documenti fino a quel periodo ma così era scritto nel loro albero genealogico. Vediamo adesso alcuni documenti. Ecco, questo è un documento di matrimonio. Questo è un documento di matrimonio. Vediamo di leggere quali sono le informazioni che contiene. intanto abbiamo il numero dell'atto, il nome dei due coniugi, l'anno del matrimonio, dove si è celebrato Castelvetro. Aspetta che il grandisco un po' di più, è un po' complicato. Ecco, vediamo che il primo, il marito, era celibe di anni 25, lui era agricola, quindi professione agricola, nato a Guiglia, residente a Castelvetro, del fu pellegrino. Quindi noi vediamo che possiamo già più o meno cercare una data approssimativa di morte. È morto il papà prima di questa data. Quindi possiamo da qui indietro cercare la sua data di morte. Poi da dove viene, è residente in vita Levizzano. Poi abbiamo la moglie, Nubile, di anni 21, Massaia, Formigine e così via. E c'è il nome dei genitori. Una cosa che voglio farvi notare, che non sempre si guarda, è che in fondo sono delle righe in cui il certificato delle pubblicazioni è eseguito. E c'è tutta la spiegazione del certificato. In questa parte viene anche evidenziato e dichiarato se c'è un riconoscimento di figli nati prima del matrimonio. Quindi noi qui possiamo cercare se c'è anche la dichiarazione di riconoscimento di un figlio. Sì, non è detto comunque che i figli che sono segnati qui come figli riconosciuti siano per forza figli illegittimi. Dobbiamo ricordare la legge dei patti lateranensi del 1929 in cui con quella legge veniva riconosciuto gli atti civili che erano uguali agli atti religiosi. Prima di quell'epoca ognuno dei due faceva i propri atti e non riconosceva quelli dell'atto. In questo caso, prego. Quindi se uno si era sposato in parrocchia e nasceva un figlio, se uno si era sposato in comune, in comune risultava figlio illegittimo e viceversa. Quindi non è detto che i nostri genitori, i nostri genitori fossero birichini. Cerchiamo in tutti e due per vedere se il matrimonio è stato celebrato solo in chiesa o solo in comune. Questo quindi crea un problema. Sì, c'è la barra. Prima abbiamo visto che è stata fatta le pubblicazioni ed erano messe negli allegati. Negli allegati troviamo di tutto. Troviamo i certificati di nascita dei due nubendi. Abbiamo l'eventuale certificato di morte del genitore che è morto. E troviamo anche altre cose curiose. C'è questo per esempio, e devo spostare ancora questo, ecco. Questo è un'allegata che abbiamo trovato in un atto di matrimonio. Il brigadiere a piedi, Brugnoli Antonio, brigadiere a piedi, quindi carabiniere, è perché c'erano anche i carabinieri a cavallo, e c'erano anche i carabinieri a cavallo appiadato. Di questa legione, avendo ottenuto l'assenso ministeriale di sposarsi a Gandolfi Tarsilla, ed avendo adempiuto le prescrizioni del reggio decreto in data 15 marzo 1884, ha facoltà di unirsi in matrimonio alla promenata. Prominata, sì, prominata, il colonel e così via. Un altro documento allegato che possiamo trovare è il fatto che la persona non aveva niente, era nulla tenenza. Quindi questa persona dichiara che non ha niente, non ha mucose, usufrutti, da cui traggono le loro sussistenze, se non il lavoro giornaliero. In questo caso, il lavoro giornaliero, vivere a giornata, o come dicono a quella moda nei camaranti, vuol dire che se non aveva un lavoro, non guadagnava. Quindi era proprio una persona povera. Quindi era esentata dal pagare le tasse. E questo era il documento che li esentava dal pagare le tasse. Questo documento, in questo caso, si chiama certificazione di nulla tenenza, ma era chiamato anche certificato di povertà, certificato di miserabilità, ma aveva lo stesso significato, cioè che non avevano niente, non che proprio erano persone come noi intendiamo adesso miserabili, ecco. Non avevano il reddito se non a giornata. Quindi se erano stipendiati, per esempio, non erano nulla tenenti, perché avevano stipendio fisso. Mentre essendo a giornata, vivevano a giornata. Anche questo è un atto di matrimonio. Oltre alle cose di cui vi ho parlato prima, riguardo al marito, alla moglie, gli anni che avevano, eccetera, ci sono delle cose che ci servono, che possiamo tirar fuori per creare la nostra storia di famiglia. Per esempio, questo luglio Giuseppe, di anni 49, faceva il sellaio. Quindi lavorava il cuoio per poter fare le selle. Così possiamo pensare a come vivevano a quel tempo senza automobile, i cavalli e il suo lavoro che era proprio indispensabile. Nato a Modena, residente a Modena, figlio, eccetera. E c'è anche il nome della madre, quindi gli atti di matrimonio sono proprio indispensabili per poter avere una certa sequenza genealogica. La Vandelli Maria, invece di 43 anni, aveva un lavoro che questo fa sempre ridere i bambini, perché faceva la rivendugliola. La rivendugliola sarebbe in realtà il venditore ambulante. E a noi piace raccontare che mentre lei andava in giro rivendugliando con la sua bancarella, si è trovato un giorno al mercato, ha incontrato questo sellaio che faceva questo lavoro e hanno pensato di mettere insieme la loro azienda. Così rivendugliavano insieme le varie cose che venivano fatte. Importante che leggiate, come diceva prima, la parte finale, perché qui c'è scritto che non soltanto quando sono state fatte le pubblicazioni, ma anche dove, se i due sposi sono di due poste diverse, le pubblicazioni vengono fatte nei due comuni. Alla fine, qui c'è scritto, letto il corrente atto agli intervenuti, si sono essi, ecco, sottoscritti, meno gli sposi perché illetterati. E questa è una cosa, è una parola molto bella ed elegante per dire che non sapevano leggere e scrivere. Erano illetterati. La stessa cosa che diciamo, per esempio, anche per Carlo Maglio, era inabile di lettere, illetterato perché non sapeva neanche lui né leggere né scrivere. Questo abbiamo trovato su un atto dell'800 circa, un atto notarile. Ecco, questo è un atto di nascita, che è piuttosto anche originale, nel senso che ci sono delle informazioni che di solito non ci sono. In questo atto di nascita, allora, prima di tutto, dobbiamo comprendere che la data che c'è scritta in cima negli atti di matrimonio è la data del matrimonio, mentre la data che troviamo scritta in cima negli atti di morte e negli atti di nascita non è la data della nascita o della morte. La data è la data della presentazione. Infatti dopo c'è scritto che è comparso Gozzoli Ferdinando di Giuseppe di anni 23, agricola, domiciliato a Castelvetro, il quale mi ha dichiarato che alle onde anti-meridiani 10 e minuti nessuno del D10, quindi è lo stesso giorno in questo caso, ma alle volte può essere anche due giorni prima, tre giorni prima, perché avevano dieci giorni di tempo per poter denunciare il bambino, è nato da, e quindi c'è il nome della madre. Di solito c'è soltanto quella. In questo atto particolare invece c'è il nome del padre anche e il nome della madre, quindi ci sono anche i nonni, sua moglie, Massaia, se colui convivente. Andando avanti, ecco che la bambina non si chiama soltanto Faustina o Edvige o come la chiamavano in casa, ma aveva questi tre nomi. Il nome Maria messo alla fine è un qualcosa che ci dovrebbe far riflettere e proseguire le nostre ricerche anche in un altro campo. Di solito l'ufficiale di stato civile o la famiglia stessa non pensava di chiamare il proprio figlio o la propria figlia con l'ultimo nome Maria. Questo era qualcosa che veniva suggerito dal parroco durante il battesimo e quindi in questo caso noi possiamo capire che la Faustina Edvige era stata battezzata prima di essere stata denunciata allo stato civile per la sua nascita. Poi ci sono i testimoni e in questo caso non c'è scritto altro, però di solito nella parte sotto c'è anche scritto se il bambino viene o no presentato all'ufficiale di stato civile. La legge diceva che non bastava andare dall'ufficiale di stato civile e dire ah oggi mi è nato un bambino. Bisognava dimostrarlo così come tutti quanti i documenti che noi tutte le informazioni che noi riceviamo dobbiamo documentarle con dei documenti. In questo caso veniva portato il bambino e molto spesso a causa della distanza a causa della cattiva stagione veniva dispensato dal presentare il bambino. Altra cosa importante che può servire per la nostra ricerca e per costruirci la nostra storia di famiglia sono le note a margine. In questa nota a margine vediamo che Faustina si è sposata il 20 novembre del 1910 nel comune di San Cesario con l'addo numero 19 o 18 con Ascari Aldobrando. e abbiamo ancora un'altra cosa in più per continuare la nostra ricerca e per costruire questo gruppo familiare. l'atto di morte questo ripete l'atto di inassita nel senso che la data che è scritto sopra è la data dell'atto e sotto c'è la data in cui è venuta la morte. Le informazioni che troviamo sono interessanti perché troviamo sia l'età della persona che è morta Vignale Vitale di anni 87 residente a nato a Pavullo e poi ci sono anche i nomi dei genitori fu Clemente e fu Ricci Maria c'è scritto anche da dove habitavano in vita a Pavullo tutti in vita a Pavullo e poi c'è il nome del marito e che lui era marito di Barry Filomena quindi troviamo qualcosa che non sempre viene valorizzato ma troviamo qualcosa dove ci aiuta a cercare chiaramente l'atto di morte di solito l'ultimo perché non è che riusciamo a sapere quando è morto anche se con l'aiuto di Vincenzo Alfano potremmo trovare una data approssimativa di morte poi sarà una prossima conferenza che Vincenzo ci presenterà la formula per calcolare la data di morte dei nostri antenati allora questo cos'è è un indice perché vi faccio vedere un indice perché quando cerchiamo le persone la prima cosa che bisogna cercare è l'indice l'indice del comune è per anno l'indice decennale non sono consultabili da noi non li fanno consultare perché sono all'interno del comune noi possiamo consultare gli indici annuali però per comune se noi sappiamo che il nostro antenato è nato in provincia di Modena o in provincia dove volete voi come posso sfogliare tutti i comuni se l'antenato ha fatto il militare quindi non solo i tre giorni ma ha fatto il servizio militare abbiamo un indice che è per provincia quindi qui io ho l'indice provinciale in questo caso due province perché Reggio e Modena erano insieme sì sono ancora insieme per dire la verità quindi io per provincia posso cercare e posso identificare cose e nomi che altrimenti non potrei trovarlo cioè ho sempre troppo faticoso trovarlo in questo caso abbiamo questo Ricchieri Alessio che ha l'atto numero 21 692 di Modena allora io l'ho trovato e guardiamo prima guardiamolo insieme questo è il suo ruolo matricolare vedete il numero corrisponde adesso leggiamo un pochettino cosa c'è interessante nel ruolo matricolare ecco intanto possiamo vedere dove è nato Modena provincia però è Castelvetro quindi non è la città proprio ma è una dei tanti comuni di Modena ci sono i nomi dei genitori c'è la religione c'è la data precisa di nascita per cui noi dopo possiamo andare nel suo registro di Castelvetro cercare l'anno 1922 e trovare tutte le informazioni che riguardano la sua nascita ma qui c'è qualcosa di più ragazzi qui c'è la sua descrizione fisica considerando il fatto che i registri militari ci sono dall'unità d'Italia noi possiamo trovare la descrizione fisica dei nostri antenati quando ancora i nostri antenati non avevano una fotografia quando si parla di unità d'Italia vuol dire coloro che sono partiti quando c'è stato un'unità d'Italia esempio Modena è entrato nell'unità non in Italia ma è entrato nel regno di Sardegna nel 1859 abbiamo tutte le persone che sono partite nel 1860 quindi partiamo con i nati del 1840 e qui vediamo anche la sua descrizione fisica era alto un metro e 66 con 0,91 cm di torace aveva capelli castani di forma liscia un viso lungo un naso retto mento sporgente occhi castani e le sopracciglia castane una fronte alta colorito roseo e una bocca giusta dentatura sana nessun segno particolare faceva il contadino sapeva leggere e scrivere perché aveva frequentato la quinta elementare e questo è proprio il quadro del nostro antenato come lui aveva vissuto come contadino quinta elementare che era già un lusso perché i bambini non avevano sempre la possibilità di andare a scuola quando era il momento di raccogliere l'uva le patate o quello che era i genitori dicevano figlio mio oggi non vai a scuola mi devi aiutare nei campi e così perdevano l'anno scolastico ecco perché molti erano considerati illetterati perché molti dovevano interrompere l'anno scolastico quando già stavano cominciando a leggere e scrivere per poter aiutare in campagna poi riprendevano il secondo anno ripetevano la seconda elementare due, tre, quattro cinque volte finché non avevano non erano troppo grandi per poter continuare ad andare a scuola e rimanevano illetterati che sapevano neanche scrivere il proprio nome sì, poi la scuola allora era un po' diversa da quella attuale dovevano portarsi a scuola la legna per scaldare l'ambiente dovevano portarsi la merenda quindi è un po' diverso la loro vita scolastica rispetto alla nostra non volevo leggere tutto il ruolo però soltanto alcuni punti questa persona ha fatto la guerra perché è partito nel 41 vedete è chiamato le armi è giunto è tutta la storia della sua è stato all'ospedale militare vedete per aver riportato una ferita sì durante la guerra quindi tutto quello che lui ha fatto durante la guerra poi c'è la parte della dopo la parte della guerra quindi dopo l'armistizio del 42 quindi ha vissuto tutta la parte della guerra con l'occupazione tedesca sì ecco non volevo andare avanti oltre perché dopo vediamo dopo delle domande perché stiamo già arrivando al tempo ecco qua un ultimo documento che vogliamo presentarvi è questo nel periodo in cui viene costituito il Regno d'Italia ci sono molte persone che si trovano diciamo in uno stato diverso da quello che è lo stato italiano per esempio noi qui abbiamo vicinissimo Castelfranco che però era sotto Modena sotto Bologna e per poter venire a Modena per lavorare avevano necessità di avere un passaporto anche soltanto per dieci chilometri niente di più stato pontificio e ducato di Modena ecco poi c'erano i soldati che avevano seguito Francesco V nel suo esilio andando insieme con lui quando se ne è andato da Modena avevano perso tutti i loro diritti di cittadinanza diritti politici diritti civili Francesco V una volta arrivato a sua destinazione ha detto ai suoi che l'avevano seguito se volete tornare a casa vi do il lascia passare molti sono tornati indietro e quelli che sono tornati indietro hanno fatto domanda per poter avere la cittadinanza italiana non più cittadinanza modenese ma cittadinanza italiana e qui infatti si legge che in forza del decreto del dittatore delle province di Modena modenesi e parmensi in data 27 settembre del 1859 epoca nella quale esso esso Savigni Ferdinando di Andrea eccetera seguiva le bandiere dell'ex duca di Modena Francesco V aveva perso tutti quanti i diritti e adesso vuole riottenerli per far questo però doveva avere dei testimoni testimoni che erano conosciuti testimoni che erano anche importanti infatti queste due persone che testimoniano per lui Carlo Trevisi di Massimiliano e della Fuluccia Muzzarelli quindi nome cognome ed età della persona e anche la professione possidente e il signor Baldassare Bernardoni fu domenico e fu febbrogne montanari gli anni 50 possidente entrambi domiciliati in Spillamberto testimoni a me a me ufficiale di Stato Civile pienamente cogniti conosciuti ha dichiarato di essere nella ferma intenzione di rieleggere come infatti rieleggia e di ristabilire come di fatto ristabilisce il proprio domicilio legale nel comune di Spillamberto dal giorno del presente atto in avanti con effetto retroattivo all'epoca del rimpatrio e quindi anche questo fa parte della storia della nostra famiglia se abbiamo degli antenati che vivevano in quel periodo andiamo a guardare anche gli atti di cittadinanza per vedere se lì hanno lasciato un loro ricordo che può far parte poi della loro storia Bene direi che noi abbiamo finito la nostra relazione se ci sono delle domande Perfetto Ultima cosa da dire leggete tutto il documento non limitatevi a leggere soltanto le informazioni che vi servono per fare la vostra ricerca leggete anche la storia del vostro antenato Perfetto grazie ragazzi grazie Maurizio grazie Daniela grazie Daniela anche voi interessantissimi abbiamo fatto proprio un tuffo nella storia e magari possiamo immaginare che nella nostra famiglia davvero si possa con la ricerca scoprire anche noi delle storie molto particolari molto belle per cui è proprio un invito e come dicevi te è vero facendo genealogia ti posso testimoniare ti posso assicurare che è importante leggere tutto quello che è scritto negli atti perché ogni piccola cosa la possiamo usare per collegare e aprire lo spazio alla ricerca che stiamo facendo una domanda una domanda pratica che volevamo farvi era dove per un neofita uno che comincia e vuole incominciare a fare genealogia se non ha la possibilità di andare ora voi avete parlato di Modena ma se uno non ha la possibilità di recarsi nella città dalla quale provengono gli antenati come può fare? per prima cosa comincia da se stesso e mette tutti i dati che conosce di se stesso poi chiede alla mamma e al papà tutti i dati che loro conoscono come si chiamano anche i loro genitori e dove sono nati poi se ha la fortuna perché questa è una cosa che oggigiorno i nonni cominciano a sparire un po' troppo presto di avere anche i nonni può chiedere anche loro ai nonni come si chiamano i genitori e come si chiamano i loro nonni soltanto con i nomi si può andare indietro di 150 anni dopodiché ci sono delle cose che si può fare anche stando comodamente a casa in pantofole con la cioccolata calda usando il computer d'inverno beh d'inverno vabbè d'estate prendiamo una bella bibita con ghiacciata beh l'unica cosa che possiamo fare stando da casa è quello di utilizzare FamilySearch e antenati perfetto percare su antenati se c'è la persona sono diversi i due archivi antenati e FamilySearch sono molto diversi perché su antenati ci sono solo gli archivi di Stato su FamilySearch ci sono archivi di Stato parrocchie comuni sono altre altre fonti di formazione tribunale sì e più ci sono i microfilm fatti nel passato che sono sono in fase di digitalizzazione che non si trovano in albero familiare non si trovano in cerca ma si trovano in catalogo quindi se noi andiamo tra questi due banchi dati riusciamo a vedere abbiamo qui presente con noi un nostro amico Mario Mario che in questi giorni ha scoperto la possibilità di cercare tramite il catalogo i suoi antenati che non sono ripeto in cerca nei documenti che sono indicizzati perché sono documenti stati microfilmati negli anni scorsi quindi anni 70 80 prima della digitalizzazione e così io ho scoperto una cosa nuova che intorno a Milano c'era un altro bel comune che io non sapevo che adesso fa parte di Milano si chiamava Corpi Santi Corpi Santi una cintura proprio tutto intorno a Milano con tante parrocchie ognuno aveva la sua adesso fa parte di Milano ma nel 1800 era una zona con ufficio anagrafico a parte comune a parte quindi Corpi Santi così si possono trovare tante tante informazioni perfetto ecco un'altra domanda appunto che ci facevano era rivolgendosi agli archivi anagrafici allo stato civile dei comuni eccetera FamilySearch è una grossissima risorsa assolutamente e poi appunto ne parleremo però appunto una domanda era quella anagrafe stati civili dei comuni degli archivi di stato distinguiamo cosa sono e cosa fanno perfetto lo stato civile è l'ufficio che ha e redige i registri e non fanno vedere niente l'anagrafe è l'ufficio che prende i registri di stato civile li memorizza su computer e rilascia i certificati questo potrebbe anche creare un errore tra i due passaggio di informazioni che non interessa lo stato civile che però ultimamente diciamo nell'ultimo anno ha chiuso tutto e non fa più vedere niente ho capito privacy e tutto il resto e quindi perché perché dipende dal ministero degli interni ho parlato con diversi ufficiali stato civile adesso parla del modenese quindi mirandola modena e così via per loro i documenti stato civile sono secretati ma quelli del mille e ottocento sei per noi sono chiuso corrente e quindi non li facciamo vedere in questo caso allora conviene di più andare negli archivi di stato lì c'è sempre il personale disponibile a tirare fuori i registri perché ogni registro viene fatto in due copie originali una che rimane al comune e una che va nell'archivio di stato perfettamente uguale ho capito e all'archivio di stato dobbiamo recarci di persona oppure possiamo fare anche per me allora se voi abitate a Firenze e uno va a Firenze ci deve andare esatto è più facile però io vedo l'esperienza nostra di Modena che ci scrivono tutti e diamo risposta a tutti mandando il documento si a volte fa così quindi anche se non è di moda quindi anche se è di Milano o qua intorno di solito viene risposto mandando il documento che serve chiaramente nei tempi non sono immediati ma non sono mica tanto lunghi quindi solito due o tre settimane entro un mese loro devono rispondere per contratto proprio ecco quindi è possibile trovare anche queste informazioni per esempio è possibile in via teorica in via teorica trovare registri fino al 2000 perché dopo il 2000 è cambiata la legge con Berlusconi ha cercato di rendere tutto digitale non è ancora partito ma prima andavano in tribunale fino al 2000 a corte d'appello adesso vanno in prefettura quindi il tribunale ha voglia di smolognare questi archivi quindi fino al 2000 si può trovare dopo però fino al 2000 è abbastanza recente esatto sappiamo noi già i dati perfetto ecco io avrei esaurito le domande perché quelle diciamo le argomentazioni erano quelle per cui ne abbiamo assemblate d'accordo vi ringrazio tanto tanto perché avete toccato un argomento che riguarda ognuno di noi personalmente per cui il desiderio adesso deve essere tutto nostro di andare ad aprire gli archivi di andare a fare la ricerca e per esperienza vi posso dire condividere con voi che con tutti gli altri che in effetti la ricerca fatta personalmente dà una soddisfazione incredibile e in effetti ti senti proprio parte della tua famiglia della tua storia di quello che gli altri hanno lasciato no? e che hanno vissuto prima di te per cui solo un'ultima cosa che come detto Maurizio se sei di Firenze hai l'archivio di Stato di Firenze vai lì però se sei di Firenze e i tuoi antenati sono di Napoli di Siracusa di altre cose andate sul sito dell'antenati o dei premi di search così le ricerche le fate da casa oppure se non riuscite a trovare niente mandate un'email che l'archivio di Stato vi dovrebbe rispondere perfetto grazie mille grazie tanto Maurizia grazie Daniela grazie tanto grazie a tutti